Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano essere più innamorati che mai, e i loro fan non possono che essere più felici, dato che da sempre. Li hanno visti come una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. In questi giorni, i due si stanno godendo il periodo di vacanza. Prima di intraprende i rispettivi impegni televisivi che li vedranno entrambi molto impegnati nella prossima stagione, che andrà in onda sul piccolo schermo. Dopo il ritorno di fiamma, Belen ha sempre ammesso di essere pronta ad una terza gravidanza e di volere un nuovo figlio da Stefano dopo il loro primogenito, Santiago nato nel 2013. La donna, oltre al maschietto di casa, ha anche una femminuccia. Luna Marie di oltre un anno nata dalla relazione con Antonino Spinalbese finita dopo alcuni mesi dalla nascita. Della bambina. Stefano si è dichiarato molto affezionato a Luna Marie, e che vuole essere per lei come uno zio, ma assolutamente non si vuole sostituire al suo vero padre, con il quale tra l'altro sembra avere un buon rapporto. In queste settimane si è parlato molto di una gravidanza da parte di Belen da parte di Stefano, e di come la donna potrebbe mettere al mondo il suo terzo figlio, il secondo da parte del ballerino. Su questa indiscrezione sono sorti molti dubbi, e a metterli a tacere è stata la stessa showgirl che ha pubblicato su Instagram una foto che darebbe la risposta. Definitiva alla questione. Nello scatto possiamo vedere Belen in bianco e nero con un body attillatissimo, che mostra un ventre completamente bianco, e nei commenti possiamo leggere chi ammette che dopo questa foto non ci sono dubbi sul fatto che la donna non è incinta di Stefano. Ma non è detto che i due non possano diventare nuovamente genitori. Data alla loro giovane età e la voglia di mettere al mondo un nuovo fratellino per Santiago e per Luna Marie.